Pronto? Ok, adesso prendo e dico tutto. Dì, dimmi tutto. Allora, da quando io ho conosciuto te e le mie strade si sono aperte e posso dirti che le cose mi vanno a meraviglia ogni giorno che passa e finalmente l'ho trovata. Gloria a Dio. Ma come mai? Come mai? Come mai? Aspettami, si chiama Laura. Aspettami e ti saluta. Davvero? Salve. Ciao, Laura. Ti voglio bene. Salve, salve. Come va? Bene, bene. Ti voglio bene, Laura. Grazie. Ok. Gloria a Dio. Ma cosa è successo, Laura? Cosa è successo, Laura? Dimmi. Laura, che è successo? Mi sta dicendo. Diggielo cosa è successo. Diciamoglielo qua, fratello Angelo, che siamo rinati. Grazie a lui. Diggielo. Sì, siamo rinati. Siamo rinati. Diggielo. Ma cosa? Cosa è successo? Oltre a rinascere, cosa è successo? Entra nei particolari. Entra nei particolari. Ci siamo ritrovati a distanza di dieci anni. Ci siamo rivisti davanti a una tazza di caffè e da lì è nato tutto nuovamente. È nato tutto. Gloria a Dio, gloria a Dio. Che bello, che bello. Ui, ui, ui. La fiamma è riscoscata. Gloria a Dio. E ho visto un'immagine con tante cagnoline. Allora quello è il risultato. Tanti bei bambini. Tanti bei bambini. Che bello. Sì. Sì, sì. Bravo, bravo. Bravo, Carlito. Bravo. Grazie. Ok. Allora auguri, Laura. Va bene? Auguri. Non lo mollare più, però. Va bene? Ok? Sì, grazie. Ok. Ciao, ciao. Ciao. Stasera venite in live, va bene? Non è che adesso... Stasera vi colleghi e parliamo mente. Eh, va bene? Ok. Ciao, ciao. Ok. Ciao, Carlito. Ciao. Ciao, Laura. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.